Chi di voi sposerebbe quella donna? Che la purezza ritorni in video! Che la purezza ritorni in video! Nell'ambito delle riprese la scelta della location è fondamentale. Bisogna che una location abbia dei requisiti che sono fondamentali per poter registrare senza complicazioni. E' chiaro che sto parlando di una location occasionale, non di uno studio che è adibito a questo. Una location, per esempio, non deve avere problemi di illuminazione, di fotografia, infiltrazioni di luce dall'esterno. Non deve essere angusta, ovviamente. Deve avere un'agibilità importante, perché noi abbiamo un sacco di roba che ci portiamo dietro, cavalletti, stativi, carrelli, luci, insomma tutta questa roba qui e quindi dobbiamo poterci muovere liberamente. Ma soprattutto direi una location non deve presentare problemi di audio. Quindi se è vicina a un aeroporto oppure in una strada molto trafficata guardate che non c'è niente che possa attutire certi rumori. quindi ogni volta ci si ferma ed è un peccato. Quando finalmente il ciac è buono lì bisogna ricominciare da capo perché è passato, che ne so, il camion. Per favore, amiccione, basta, basta, in indecenza. Senatore, ascoltatemi tutti, noi siamo un movimento segno, siamo un movimento S-A-T. Bene, nel caso di Moana Pozzi voi capite che io non potevo andare nel luogo di lavoro di Moana dovevo evidentemente sfruttare un'occasione. L'occasione si presentò quando alla Fiera di Milano venne adibito un padiglione ai produttori di film pornografici. Quindi nella Fiera di Milano c'era uno spazio dedicato al film porno e quindi con tutti questi produttori del mondo che presentavano le loro star e i loro prodotti. Un'occasione unica perché Moana andava lì a firmare i libri, il suo ultimo libro per i suoi fans. Quindi che cosa feci? Beh, innanzitutto io ho miso in piedi un gruppetto di persone molto convinte che inneggiavano alla salvaguardia dell'anima dei telespettatori. Quindi un gruppo della SAT salviamo le anime dei telespettatori. E questi un po' grigi così un po' tristi andarono in questo padiglione che invece era pieno di allegria c'era un sacco di gente potete immaginare anche perché c'erano scenette anche che venivano fatte in diretta insomma veramente una cosa molto particolare e quindi queste ragazze questi ragazzi che entrarono in questo padiglione con i cartelli per dire salviamo le anime dei telespettatori lottiamo per avere un video più puro. Erano per il video puro. Moana nel vedere questa diciamo questa protesta devo dire che se ne infischiò parecchio fece così dei commenti ma insomma non è che rimase così tanto colpita dovemmo alla fine sfasciarle lo stand per cercare di avere una reazione e quindi buttare all'aria tutti i suoi libri tutto tutte le cassette tutto quello che c'era per avere un minimo di reazione ma io voi sapete che sfrutto uno scherzo per dire quali sono e quali sono stati i problemi di quello scherzo in quel caso il problema era proprio la location perché la location ovvero girare all'interno di una fiera è un disastro è un disastro un disastro è un disastro perché perché c'è tanta gente la gente da spintoni gomitate tutta questa roba qui non ti riconto neanche dei cavalletti niente non gli importa niente la gente va ma è soprattutto un disastro per l'audio perché l'audio in un padiglione andate alla fiera nautica volete fare una bella intervista con che ne so un velista eccezionale portatelo fuori fuori del padiglione perché nel padiglione si sentono e si sentiranno tutti tutti gli echi tutti i riverberi di quella situazione che la purezza ritorni in video e quindi noi nello scherzo avemmo questo problema che fu un problema grave chiaramente noi eravamo molto agguerriti con i microfoni tutti i microfoni direzionali tenuti da finti da pubblico finto che era lì che puntava il direzionale sulla bocca di Moana però ragazzi con tutto quel caos che c'era all'intorno era veramente difficile registrare era difficilissimo registrare e alla fine questo ve lo dico Moana fra l'altro mi disse che era anche un po' impietosita da queste ragazze che volevano insomma che lottavano per il video puro perché diceva insomma lei non capiva queste cose e diceva che quelle ragazze andavano aiutate ma a parte questo ricordo devo dire molto simpatico perché Moana fu veramente simpatica fino alla fine non batte ciglio neanche quando le sfasciamo lo stand al di là di questo quello che mi sono portato a casa allora era ancora una volta il fatto che cercare cercare di realizzare qualcosa quando non ci sono le condizioni ottimali per farlo è un errore o comunque può causare dei grossi errori delle grossissime difficoltà e in quel caso l'audio fu veramente veramente un disastro dovevamo risolvere tante cose in montaggio ma in montaggio voi sapete bene che quando tirate su che ne so una voce tirate su anche tutto il resto e se lì c'è un vociare o rumori di fondo molto forti insomma isolarli diventa molto 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 complicato molto difficile ah mi raccomando è un po' che non lo ripeto girate meno girate meglio e scegliete meglio la vostra location grazie a tutti Grazie a tutti.